Guardo, io ho scoperto da un anno che la Brianza è bella, è molto bella. Io sono qui in questa stazione, lo sto preparando da mangiare, sono le ore 16. Ecco, la stazione dovevo tutto l'occurrente, da mangiare anche senza pagare. Io vivo bene qua, io vivo bene, sto bene, la gente è molto cordiale, irresponsabile. Ecco qua il mio pranzetto, il mio pranzetto qua delle ore 16, vegetariano, sì perché voglio dimagrire. Che bello qua, la Brianza, la sala d'attesa in alto, mia personale, con un mio bel quadro. Sottostante, guardo dalla finestra, c'è il treno, ecco che è arrivato il treno. Sono qua da solo, che belli questi archi. In questo bel locale dove io mi trovo bene, sottostante ho la ferrovia a 10 metri che posso andare a Como, dove c'è tanta gente, o a Erba o a Lecco. Qua c'è anche il bagno, con la doccia calda, il boiler e non pago neanche la luce. Ho avuto la fortuna di conoscere un artista, responsabile del legambiente, che mi ha dato come affitto comodato tutto ciò. Qui domino al primo piano il mio senso di vita, il mio senso di vita che mi piace, è stare qua, mi trovo bene. Ora vi saluto. Accendo la radio, un po' di musica, ma anche se non c'è la musica, è il mio pensiero che funziona nelle cose belle. Il pensare che non sono individuo della società, dove si allaccia a tutte le pubblicità. Ma sono io che vivo nella mia vita come un carrozzone, che continua a cambiare case e trova sempre il meglio del meglio. E' bella la vita, anche nella povertà, con le persone che ti amano, che ti vogliono bene. Musica, gente, cantate e poi, uno alla volta, si scende anche noi. Musica, gente, cantate e poi, uno alla volta, si scende anche noi.